Oh! Sono delle attrezzature da sub. Il tuo patrigno e Ben le hanno preparate per gli archeologi che arriveranno la settimana prossima. Ma qui c'è l'entrata della città sommersa? Ragazze, però se mio padre lo scopre ci ammazza. Tranquilla, ho parlato con Ben. O padre dall'altra parte a mappare il tunnel che hanno scoperto. Non saprà mai che siamo state qui. A me questa non sembra una città. È una città maia. È stata costruita sottoterra vicino ai loro cimiteri. Per nascondersi dai conquistadores, gli invasori. Adesso però è finita in gran parte sott'acqua. Grazie professoressa.